Un caso è un episodio isolato. Due possono essere una tragica coincidenza. Ma sei vittime in cinque anni, sei ragazzi annegati nell'Agua Como, sono un problema drammatico. Un problema che, come tale, ha bisogno di soluzioni. Non bastano evidentemente i cartelli, pur ben visibili, di divieto di balneazione. La giovane età, a volte, porta a sottovalutare rischi e pericoli. Tuffarsi in Viale Geno è pericoloso anche per chi ha confidenza con l'acqua. Perché il lago è sempre freddo, nelle correnti sotto la superficie, e tuffarsi significa rischiare uno shock termico. Perché il fondo è limaccioso e certo non aiuta in caso di difficoltà. Perché il lago di Como non è il mar Adriatico. I fondali si inabissano a precipizio, a pochi centimetri dalla riva non si tocca più. L'estate non è ancora iniziata. Sono già morti due ragazzi e un terzo ha rischiato la vita. Vedere gruppi di giovani fare bagni e tuffi in una zona pericolosa e potenzialmente letale farà brevidire. Perciò diventa necessario un presidio fisso, costante. E la richiesta che arriva anche a gran voce dai comaschi, che commentano la tragedia dei giorni scorsi attraverso i social. Se non si può, come immaginiamo, ricorrere alle forze di polizia urbana, è opportuno istituire una figura di controllo. L'equivalente di un guardaspiaggia, nonostante la zona non sia né una spiaggia né un'area balneabile. Una figura che possa dissuadere i ragazzi da rischiare la vita o che magari possa chiamare tempestivamente i soccorsi in caso di problemi. Servisse a salvare anche una sola vita in cent'anni, sarebbe comunque un investimento azzeccato. Grazie. 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 Grazie.